Ciao Sandra! Ma come stai oggi? Ti vedo strana! Sembra che hai lo sguardo fisso! Hai preso uno spavento? Ma 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 mi sento attonita e perplessa Bella mi dispiace? Hai avuto uno spavento? Hai visto qualcosa di spaventoso? Forse Daniela sai non ricordo bene credo di avere fatto un brutto sogno Potrebbe essere che nel sogno venissi rivestita da un getto d'acqua che mi aveva tutta bagnata Però si è una cosa strana effettivamente Sai Sandra tu che dici sempre di essere una strega e di avere delle premonizioni Potrebbe essere che tu anche in questo caso ne abbia una Magari forse hai sognato questa cosa Allora dai a qui Ecco come ho mamma chi è tutto questo Leaf Ha 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 ha.